L'inchiesta nata dal dissesto del Comune di Potenza ha portato alla luce una serie di irregolarità nella gestione delle gare per il trasporto pubblico e i favori assicurati alle dette amiche anche grazie a interventi politici. Dalla Regione 29 milioni di euro per rilanciare l'occupazione, previsti bonus e incentivi per chi assume giovani e voucher per gli over 35. Si chiude un'era alla centrale del Mercure, l'ENI vende al fondo infrastrutturale F2I e lascia dopo anni di contenziosi e ricorsi. In vista delle elezioni regionali il governatore Pittella spera ancora in un accordo con liberi uguali, ci saranno altri mille tavoli, non è detta l'ultima parola. Calcio e il Potenza formalizzerà oggi l'iscrizione al campionato di Serie C, intanto il presidente Cajata smentisce le voci di possibili cessioni di quote societari. Buon pomeriggio e ben trovati sulla Nuova TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione, la cronaca giudiziaria, emergono nuovi dettagli dalle carte dell'inchiesta nata dal dissesto al Comune di Potenza. Gli inquirenti hanno ricostruito i tentativi di turbare le gare sul trasporto pubblico. Per i particolari sentiamo Celestino Benedetto. Quello dedicato alle gare sul trasporto pubblico bandite dal Comune di Potenza e dalla regione Basilicata è uno dei capitoli più corposi dell'inchiesta che ha portato a due arresti e sei divieti di dimora per truffa aggravata, corruzione, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Per quanto riguarda la gara del Comune, alla fine del 2015 si verificò il passaggio da Cotraba alla ditta Trotta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il presidente del Cotraba, Giulio Ferrara, avrebbe cercato sponde politiche per evitare di perdere l'importante gara. In accordo con il sindacalista della FIT CISL Carlo Costa, su input del consigliere regionale Franco Mollica, Ferrara aveva deciso di impugnare il bando di gara davanti al TAR. In un secondo momento invece, Ferrara e Costa avrebbero concordato anche per un intervento politico-istituzionale del consigliere Mollica, che si concretizzò attraverso un comunicato stampa critico nei confronti del bando trasporti del Comune di Potenza. Ferrara, Mollica e Costa, inoltre, avrebbero interferito sulla commissione di gara attraverso il presunto intervento dell'ex sindaco Santarsiero, su un componente della stessa. Nel novembre del 2015, però, la gara viene affidata alla Trotta. Alla regione, invece, il Cotraba si aggiudica la gara per i servizi di trasporto su gomma sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari, per il biegno 2016-2017. Sette mesi prima dall'emanazione del bando di gara, però, Ferrara avrebbe ricevuto, sempre tramite il consigliere Mollica, gli atti riservati del disciplinare di gara, mettendo in condizione Cotraba di presentare la migliore offerta possibile. Al centro del primo filone di inchiesta ci sono i favori riconosciuti dal Comune di Potenza durante la passata gestione ad alcune ditte amiche, che avrebbero ricevuto compensi per un monte ore decisamente superiore rispetto alle prestazioni effettivamente rese per la pulizia delle strutture comunali. Ai domiciliari sono finiti il funzionario comunale Mario Giuliano e l'imprenditore Nicola Auletta. Stop al cantiere di Tempa Rossa. Circa 500 lavoratori dalle 4 di questa mattina hanno bloccato i lavori per la realizzazione del centrole di Corletto per Ticara, ormai prossimo all'entrata in funzione. Lo sciopero proseguirà ad oltranza fino a quando gli operai non avranno rassicurazioni sul loro futuro. In totale sono 1.400 gli addetti, ma con l'avvicinarsi della fine dei lavori molti sono rimasti a casa e altri hanno il contratto in scadenza. I lavoratori lamentano l'utilizzo di manodopera straniera a basso costo e chiedono l'intervento della Regione del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. La protesta accade nel giorno della presentazione del piano di monitoraggio ambientale predisposto dalla Regione Basilicata, che sarà presentato oggi pomeriggio alle 18 nel corso di un incontro pubblico a Guardia per Ticara. 29 milioni per il sostegno all'occupazione, quanto previsto da due bandi della Regione Basilicata, presentati questa mattina dal governatore Pittel e dall'assessore Cifarelli. Vediamo. Ammontano circa 29 milioni di euro le risorse destinate dalla Regione Basilicata per i due bandi che prevedono bonus per l'assunzione di giovani laureati e diplomati e per la concessione di voucher per percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva. I due bandi sono stati illustrati a potenza nel corso di una conferenza stampa dalla Presidente della Regione e dall'assessore alle attività produttive Roberto Cifarelli. Il bando destinazione giovani riguarda persone tra i 18 e i 35 anni con diploma triennale o di maturità o laurea, anche triennale, residenti in Basilicata verso imprese con sede in regione. Ogni impresa può richiedere bonus in relazione al numero di dipendenti, fino ad un massimo di 15 bonus per oltre 250 dipendenti. L'importo del bonus va da 8.000 a 12.000 euro annui per due annualità, a cui si può aggiungere un bonus ulteriore per la formazione. La Regione prevede circa 1.800 assunzioni da parte di queste imprese. Il bando per gli over 35 prevede risorse per 2,6 milioni, 1,6 per gli over 35 e un milione per i disabili maggiorenni disoccupati e senza altre misure di sostegno. I voucher vanno fino a 5.134 euro per gli over 35 e fino a 6.484 euro per persone con disabilità. I voucher finanziano interventi di inserimento lavorativo come l'accoglienza, l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento al lavoro. Da queste iniziative, ha detto Cifarelli, ci aspettiamo ulteriori diminuzioni dei tassi di disoccupazione come avvenuto negli ultimi periodi e anche per i giovani abbiamo dati in netto miglioramento con l'obiettivo di frenare anche la migrazione e la fuga di cervelli. E torniamo alla cronaca giudiziaria. Serviranno altri 25-30 giorni per conoscere gli esiti dell'esame del DNA sui resti ritrovati nel bosco di Canincella di Lauria lo scorso 10 giugno. Il dottor Consalvo, medico legale incaricato dalla procura di Lago Negro per svolgere i lievi medici, ha infatti la necessità di svolgere esami più approfonditi vista la difficoltà di prelievo del DNA dalla struttura ossea del cadavere rinvenuto. Nei giorni scorsi il fratello e il padre di Mariano di Lascio, il 42enne di Lauria scomparso il 21 novembre dello scorso anno, si sono sottoposti al test del DNA proprio per poterlo comparare con quello che il dottor Consalvo preleverà dai resti. Intanto i legali della famiglia di Lascio, Boccia e Cosentino attendono gli esiti. Non ci aspettavamo tempi così lunghi, dichiara l'avvocato Antonio Boccia. Insomma, una vicenda ancora da chiarire con i legali che però, come già dichiarato nelle scorse settimane in riferimento agli indumenti ritrovati, avvertono il forte sospetto che si tratti proprio del 42enne Lauriotta. Un 56enne della provincia di Bari è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina. L'uomo lo scorso 5 maggio aveva rubato all'interno di un cantiere diverse componenti di metallo che dovevano servire per i lavori sulla statale Bradani che dopo aver caricato l'area furtiva aveva investito un vigilante prima di darsi alla fuga. E cambiamo pagina. L'Enel vende la centrale a Biomasse del Mercuri al Fondo Infrastrutture F2I e la fine di un'era dopo anni di contenziosi e ricorsi. Sentiamo Alessandro Panuccio. Da mesi era nell'aria, tanto che le voci non avevano trovato mai una secca smentita. Ora c'è la conferma della società. Per un passo storico dopo oltre mezzo secolo, il gruppo Enel ha raggiunto un accordo con F2SGR per la cessione dell'intero portafoglio di impianti di produzione di energia elettrica da Biomasse in Italia per una potenza installata complessiva netta pari a circa 108 MW. La cessione riguarda gli impianti in esercizio della centrale del Mercure da 41 MW di finale Emilia, situati rispettivamente alla Inoborgo, al confine con la Basilicata e il Parco del Pollino, e in Emilia Romagna. Il 50% di PowerCrop è il progetto per la costruzione di un impianto in Lombardia. Il perfezionamento dell'operazione è subordinato al nulla osta dell'antitrust e potrà avvenire anche attraverso singoli atti di cessione relativi ai diversi impianti tra il 2018 e il 2019. L'operazione prevede un corrispettivo per la cessione dell'intero portafoglio di impianti pari a circa 335 milioni di euro. Fondi italiani per le infrastrutture SGR e SPA è una società italiana di gestione del risparmio, titolare del fondo F2I. Ricordiamo che la centrale del Mercure dal 2016 è alimentata a biomasse e il suo funzionamento è appeso all'ennesimo giudizio davanti al Consiglio di Stato, atteso a breve. Ed ora diamo la linea per qualche secondo alla pubblicità. Design e restyling di interni di Vito Coviello Pitturazioni, carte da parati, controsoffittature, pareti acustiche, coibentazioni, rivestimenti a cappotto, guaine bituminose Design e restyling di interni di Vito Coviello a Lago Pesola e Potenza per informazioni 340 63 70 636 vito coviello chiocciola hotmail.it Complesso saluni da barbiere e matrimoni il nuovo lavoro di Graziano Accinni in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud Dalla mazzurca alla polca dalla quadriglia alla tarantella un'opera sulla grande tradizione musicale lucana Ritmi immortali da ascoltare ovunque Complesso saluni da barbieri e matrimoni il nuovo lavoro di Graziano Accinni in abbinamento facoltativo con La Nuova del Sud Ripartiamo dalla politica in vista delle prossime elezioni regionali il governatore Marcello Pittella non sembra rassegnarsi alla chiusura arrivata da liberi o uguali lo ha intervistato per noi Michelangelo Russo sentiamo Leo chiude, Pittella apre o comunque prova a non congelare la fase di dialogo ottenuto l'ok in larghissima maggioranza dal PD il governatore non sembra affatto turbato dall'andamento della trattativa in corso con liberi e uguali che avrebbe subito una brusca frenata proprio all'indomani dell'endorsement incassato in assemblea Roberto Speranza, Giannino Romaniello e Giovanni Petruzzi hanno apertamente contestato la decisione assunta da renziani affini in vista delle regionali asserendo di essere pronti a controbattere promuovendo una coalizione popolare alternativa che dia forza e rappresentanza ai progressisti e democratici nonché alle forze civiche e ambientaliste ma da Sanfele dove si è recato in visita alle cascate Pittella lancia segnali opposti limitandosi semplicemente a riconoscere che allo stato attuale vi è una diversità di vedute ma no, ma non c'è nessuno strappo ci può essere una diversità di vedute voglio augurarmi invece che ci sia invece la responsabilità reciproca per comprendere che questo è un tempo in cui insieme si va e insieme si può raggiungere un risultato per la Basilicata ma ci saranno altri mille tavoli con Leo e con altre forze politiche e tanti altri con le forze che sono nella società Dal Consiglio di Stato è arrivata la bocciatura definitiva del calendario venatorio 2016-2017 della regione Basilicata che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell'ISPRA contro il calendario della regione EMPA, LAV, LIPU e WWF Italia avevano proposto un ricorso che era stato accolto dal Tar Lucano che aveva disposto contestualmente la sospensiva del calendario venatorio quella del Consiglio di Stato sottolineano le associazioni è una pronuncia estremamente importante che ribadisce come la tutela della fauna selvatica e della biodiversità sia nel restino di piena potestà statale le regioni non possono far finta che i pareri dell'ISPRA con delle prescrizioni sui periodi e le modalità dell'attività venatoria non esistano come accaduto lo scorso anno in Basilicata il prossimo calendario venatorio aggiungono deve essere improntato al rispetto delle norme e dei pareri scientifici predisposti dall'ISPRA dal 2 luglio al 2 settembre prossimi collegamenti delle ferrovie Appolo-Lucane tra potenza inferiore Scalo e Avigliano si svolgeranno solo con delle auto corriere lo ha annunciato la stessa azienda spiegando che i treni si fermeranno per consentire lavori di rinnovo della linea e siamo al calcio in Serie D il Francavilla ufficializza la partecipazione al suo 14esimo campionato ma i fari sono tutti sulla Serie C con il Potenza che oggi formalizzerà l'iscrizione alla terza Serie Nazionale sentiamo Luigi Santopietro Zero chiacchiere solo fatti di parole in realtà ce ne sono state in abbondanza nel corso della conferenza stampa del Potenza la prima della nuova stagione ma il senso è quello nella casa del Leone Rampante si viaggia nella direzione della concretezza e allora il primo atto parte dalla formalizzazione dell'iscrizione del club rosso-blu in Serie C con il segretario Suma e il dirigente Flamia che consegnano a Firenze fatti e non chiacchiere ossia i versamenti per poter essere al via della terza serie 2018-2019 e la fideiussione lo fanno con la serietà con cui si fanno questi passaggi per cui portando gli assegni circolari che ci vogliono per fare l'iscrizione non le chiacchiere e portando la fideiussione bancaria bancaria non assicurativa di Lusseburgo di qualche paese sconosciuto che ci vuole per fare l'iscrizione al camionato professionista questi sono i fatti il resto sono chiacchiere l'incontro aveva questo come focus ma poi la discussione si è aperta su tanti argomenti tutti condotti dal gran cerimoniere Caiata dimostrato documenti alla mano che gli adempimenti per l'iscrizione sono stati portati a termine con le sole nostre forze il presidente ha voluto smentire le voci circolate nei giorni scorsi di possibili cessioni di quote societare per poi lanciare qualche stoccata a chi vuole male al potenza bisogna imparare bene a distinguere se si vuole bene al potenza o si vuole bene al proprio spazio all'interno del potenza che sono due cose profondamente diverse tolti i sassolini dalle scarpe l'onorevole Caiata si è rivolto soprattutto all'imprenditoria media e grande di potenza ci aspettiamo un po' di vicinanza dal mondo imprenditoriale sinceramente perché quello che noi ci apprestiamo a fare è un sacrificio importante perché fare il canale di Lega Pro è un sacrificio estremamente importante l'anno scorso abbiamo avuto il supporto abbiamo tutto dai piccoli imprenditori però ci aspettiamo quest'anno perché l'anno scorso ci è stato detto ma non conosciamo la serietà del progetto se poi le cose si fanno non si fanno noi la nostra parte l'abbiamo fatta l'anno scorso adesso ci aspettiamo che grosse istituzioni economiche del territorio si impegnino a sostenere con noi questo progetto la nuova stagione inizierà col ritiro estivo che si svolgerà al Viviani dal 12 al 29 luglio con la squadra Sicura Caiata che sarà pronta al 90% per il primo giorno della preparazione la campagna abbonamenti verrà lanciata intorno al 20 luglio con l'obiettivo di raddoppiare gli 800 abbonamenti dell'anno scorso come riparte il potenza da Mister Ragno e dai confermati che sono gli over Franza Guaita Coppola e Coccia e gli under Mazzoleni Brezza Di Somma Panico e Russo per il resto dal primo luglio sarà calcio mercato con gli accordi che per la maggior parte sono già stati presi prima di chiudere una notizia di volley la rinascita Lago Negro ha chiuso le trattative con il forte opposto olandese Idde Boiswinkel classe 95 reduce della splendida stagione a Siena dove ha ottenuto la promozione in Superlega si chiude così la diagonale palleggiatore opposto in casa bianco-rossa con la società Valnocina che prosegue nella formazione della squadra in vista della terza stagione in serie A2 bene da parte mia è tutto ma ora vi lascio a Gaetano Brindisi per le previsioni meteo del weekend grazie per la cortese attenzione a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata